Musica Ben trovati telespettatori di TV6 all'appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di domani martedì 14 febbraio. Dall'osservazione delle immagini satellitari possiamo notare l'Italia orientale pressochè secondo Bradanubi, mentre sull'Europa occidentale si avvicina una nuova perturbazione. Nel dettaglio sull'Abruzzo al mattino le condizioni meteorologiche risulteranno instabili in particolar modo sul Basso Chietino, mentre sulle restanti zone del versante orientale avremo condizioni di cieli molto nuvolosi o coperti, a differenza delle zone interne dove i cieli risulteranno nuvolosi o molto nuvolosi. Nel corso del pomeriggio le condizioni meteorologiche non vedranno grosse variazioni, i cieli continueranno a risultare molto nuvolosi o coperti nelle zone orientali della nostra regione, mentre risulteranno nuvolosi o molto nuvolosi nelle zone interne. Le temperature inoltre risulteranno stabili attorno alle medie del periodo su tutto il territorio regionale. Nel corso della serata vedremo un generale miglioramento con i cieli che risulteranno poco nuvolosi o nuvolosi su tutto il territorio. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo aggiornamento. Musica Musica